L'Under 14 è il laboratorio della scuola basket Arezzo. La società retina infatti fa affidamento in questa categoria su oltre 30 ragazzi nati nel 2007 che si stanno allenando ora insieme ma che al momento dell'avvio del campionato, previsto per metà ottobre, andranno a costituire due diverse formazioni dell'Under 14 Dunia Pac e dell'Under 14 Galvar. La prima militerà nell'importante campionato giovanile d'élite contro una selezione delle squadre più forti della Toscana, mentre la seconda scenderà in campo nel campionato regionale. Il compito di allenare entrambe le squadre è stato affidato direttamente al responsabile tecnico della SBA Umberto Vezzosi, che accompagnerà questo numeroso gruppo nella sua prima reale annata nell'agonismo, con il triplice obiettivo di abituarlo ad un metodo di allenamento di alto livello, di favorire la crescita dei singoli atleti e di individuare i principali talenti del vivaio. La scelta di dividere gli atleti del 2007 in due squadre è dettata dalla necessità di fornire ad ognuno di loro l'opportunità di giocare con continuità, di esprimere le proprie capacità e di sentirsi importante. In quest'ottica la priorità di Vezzosi sarà quella di favorire una crescita tecnica, tattica e soprattutto mentale. Il progetto delineato con la SBA infatti è di accrescere l'autostima di ogni ragazzo, di responsabilizzarlo e di stimolarlo a dare il massimo per raggiungere un obiettivo, gettando le basi per uno sviluppo caratteriale ritenuto fondamentale per una formazione a 360 gradi, che possa così portare benefici nella pratica sportiva e in generale nella vita quotidiana.